e bello a tutti ragazzi e ragazze oggi siamo qui su un nuovo video, aspettate che basso volume siamo nel prossimo video di Minecraft dove cercheremo di sconfiggere il dragone dall'anno in creative, cioè no in creative, se no sarebbe molto in sopravvivenza però peccato perché qualcuno mi ha detto che qualcuno di nome Torro007 mi ha detto di fare appunto questo video perché mi piacerà non lo so però io ci provo e niente, ancora ne ho preso un po' di kit di spray mensa e ci andiamo subito a mettere in realtà, pensiamo a quanto ci avevamo acquistato su quello libro aiuto ok qua finora non è successo niente, quindi voglio guardare i miei occhi chi è stato, chi è stato, chi è stato, chi è stato, raga aspettate che ci ritorniamo naturalmente, aspettate, passate lì ok, ritorniamo oddio shift, shift sto stanno i battoli per andando là qua ha fatto però la ciavolta di uscire io non so è un bel salto molto bello sto facendo qui ho fatto la ciavolta la ciavolta la ciavolta è stata la ciavolta è stato ok posso posso intorno posso intorno posso intorno qui qui cos'è adesso posso prendere le altre cose si però eh restate là restate là restate là restate là cose ci ritorniamo ci ritorniamo scusate la pubblicità eccoci andiamo stiamo attenti a non cadere dobbiamo avanzare ragazzi ci vogliono fare il culo io ti succedo ma se per caso l'è troppo ragazzi è passato sopra il dragone il drago ciavolta dei pan non c'è non c'è uffa ragazzi riproviamo per l'ultima volta poi naturalmente sto qua finché faccio puntate finché non lo sconfigo io non sto buono finché non sconfigo il drago e prendo su un uovo non sconfigo poi ci sono le cose ve la cena è un dramma sperato che non vi uccida si però è sto incavolando lo stiamo morendo non è una sfida allora facciamo così facciamo tipo un tunnel facciamo un tunnel però se vabbè quando ci metti vabbè ci vedremo tra 8 ore bene ragazzi abbiamo anche recuperato le nostre cose stiamo qua riparati scelta ti anzi no c'è un creeper andiamo per la centessa una volta per esempio la puntata durerà se non sbaglio 10 minuti però naturalmente toglieremo anche il video di giovedì se però se ce la faccio lo faccio anche allora qua stiamo facendo progressi perché abbiamo fatto il ponte adesso vi mostro anche il tunnel a posto di passare il l'osservato osservato meglio passare il l'osservato vabbè alla fine cosa è successo a la guada la guada le mie cose quella mi ha fregato tutte le mie cose ho visto che mi ha fregato mi ha fregato mi ha fregato oh 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 vabbè credo che per oggi sia tutto spero che vi sia piaciuto come solito lasciate un commento se vi sia piaciuto se vi sia piaciuto iscrivetevi e ci vediamo alla prossima una bella creeper 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 bella creeper 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 tutto 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 è tutto ecco tutto Grazie a tutti